Io sto sui 5.500 euro al mese, netti. Carlo è un cosiddetto pensionato d'oro, uno di quelli che se la proposta di Boeri andasse in porto si ritroverebbe con un assegno più basso. Sì, perché il presidente dell'Inps ha proposto una sforbiciata per le pensioni superiori a 10 volte la minima, circa 5.000 euro lordi, un taglio che starebbe attorno al 12%. Se questo taglio lo facessero davvero? Sarebbe molto dura, lo assicuro, perché significa cambiare il tenore di vita. Dove finirebbero i soldi di Carlo? Potrebbero, secondo Boeri, finanziare un reddito minimo di circa 500 euro al mese per chi ha più di 55 anni ed è rimasto senza lavoro, come Teresa. Che lavori ha fatto nella sua vita? Magazziniere, ceramista, bidella. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato in una fabbrica che poi ha chiuso dal 99 che io sono disoccupata. Non ho avuto più un posto fisso, praticamente, ma rancio. Ma è ancora troppo giovane per la pensione. Per mezzo anno che mi manca, con la legge Fornero non ci sono rientrata. Se levano la legge Fornero ci rientro a quattro zambe.